Siamo con il dottor Giuseppe Castagna, CEO di Banca Popolare di Milano. Per quanto riguarda il nostro settore, possiamo pensare che torni ad essere un settore che occupa anche i giovani? Ma su questo oltre che pensare possiamo dirlo, perché in effetti noi avevamo un piano industriale che prevedeva a fronte dell'uscita di quelli che avevano aderito al piano incentivante sull'esodo di due anni fa una promessa di assunzione di 400 giovani, nel triennio 14-16. Ad oggi, quindi nei primi nove mesi del primo anno, abbiamo già assunto 170 giovani. In un periodo in cui si chiedono tanti sacrifici alle lavoratrici e ai lavoratori, non osserviamo la stessa dinamica di contenimento nelle retribuzioni del top management? Come conciliare questi due aspetti? Secondo me è un segnale simbolico, evidentemente, perché ovviamente non si risolve il problema del costo del lavoro abbassando soltanto la retribuzione del top management, però è importante dare un segnale. Noi, per esempio, come BPM, il nuovo Consiglio di Gestione ha ridotto del 20% gli emolumenti di tutto il Consiglio, e quindi anche l'amministratore delegato, rispetto alla precedente gestione. Grazie. Grazie.